E ora chiamo sul palco Stefania Ippoliti. Allungate l'applauso perché l'anno prossimo facciamo un jingle molto più lungo così c'è tempo di correre. Il mindset del freelance di successo. Grazie Stefania. Allora, sono un po' emozionata. Vieni, 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 qua. Ecco, ecco, ancora un po' di cose. Metto questo. Allora, le quinze mi hanno cambiato la vita. Io ero preparata con gli occhiali, ho detto porto anche le scarpe da ginnastica, così faccio un ice breaking, rompo un po' il ghiaccio. Allora, chi sono io? Brevemente, sono un coach. Coach nell'etimologia, cioè allenatore. Quindi alleno le persone a fare che cosa? L'alleno ad avere una visione più ampia, ad avere una prospettiva diversa, a cambiare mindset, ad avere un mindset positivo e potente per riuscire a superare le sfide di ogni giorno, un po' come Superman, e a trasformare la propria vision in risultati. Fatta questa introduzione, mi posso togliere tutto e torno da voi per la mia sfida col telecomando. Vediamo un po'. Allora, prima di iniziare, volevo dirvi che in questi giorni, tra ieri e oggi, ho imparato un sacco di cose e volevo ringraziarvi, come volevo ringraziare voi dell'organizzazione, che mi date il permesso di dare il mio contributo al freelance camp, a voi. Allora, vediamo un po'. Secondo me è così. Eh? Ma io ieri ho visualizzato questa cosa, eh? Tanto tempo perso. Allora, torniamo indietro. Il mindset del freelance e del successo, qual è? Vi racconto una mia storia. Allora, quando io ho deciso di passare da dipendente a freelance, ho capito che dovevo rompere un po' lo schema del posto fisso e soprattutto dovevo allenarmi ad affrontare due grosse sfide. Quali sono queste sfide? Come stessa, perché quando le cose non vengono come tutti aspetti, cosa succede? C'è quella vocina insidiosa, no? Che ti dice, non ce la farò mai, la mia idea non funziona. Chi è che ha questa vocina? Praticamente tutti. Bene, ce l'abbiamo tutti. E poi dico, vabbè, ci sono le persone che hai intorno che ti tirano su, ti incoraggiano, no? E questa è la seconda sfida. Perché incontri parenti, ex colleghi, amici che ti dicono ma adesso tu che cosa fai? Eh, faccio il coach. Eh, ma ce ne sono tanti, ma hanno tutti più esperienza di te. Insomma, devo dire che sono veramente due sfide grosse, due bombe negative e tossiche, per cui ho deciso di allenarmi ad avere un mindset molto, molto potente. E ho pensato, sai che faccio? Butto giù cinque consigli e cinque strumenti che possono essere utili per tutte quelle persone che sono in fase di start-up oppure vogliono ampliare il proprio progetto di lavoro. e preparo un allenamento che posso insegnare a tutti quanti per applicarlo su di sé e per poter superare tutte le sfide. Vi va di fare questo allenamento? No? Me ne vado? No? Interessa? Ok. Allora vado avanti. Due cose su di me. Allora, alle spalle, una laurea umanistica, venti anni di esperienze multinazionali, vendite, marketing e formazione. Però queste di venti anni sono state interrotti da un episodio, a seguito di una riorganizzazione, ho dovuto lasciare il lavoro. Allora, ieri Antonio ci ha raccontato che ha girato il mondo. Io l'ho presa malissimo, male. Però questo mi ha dato l'opportunità di fermarmi e di rendermi conto che effettivamente io affrontavo la vita veramente in maniera negativa. e quindi ho cominciato a leggere tantissimi libri e a frequentare corsi di crescita personale e ho trasformato il mio modo di confrontarmi con gli eventi di tutti i giorni. E poi ho pensato bene, adesso voglio fare qualcosa anche per gli altri. E quindi ho fatto due cose. Sono diventata un coach per aiutare le persone ad attuare anche loro una trasformazione interiore per poter raggiungere quello che veramente desiderano nella vita. E poi ho scritto un libro Succedono tutte a te. Vediamo se riesco a tirarlo fuori. Troppe cose, troppe cose. Succedono tutte a te. dove ho condensato la mia esperienza di trasformazione e delle tecniche di auto-coaching proprio perché tutti potessero attuare questa trasformazione interna. Anche loro. Allora, non so se si vede bene. Non so se riuscite a vedere la fotografia. Allora, qualcuno vedrà una figura maschile di profilo o una di fronte. Questo per sottolineare che cosa? Che ognuno di noi ha una visione soggettiva della realtà. Quindi c'è chi ha una visione molto negativa, c'è chi ha una visione positiva e c'è chi ha una visione molto potenziante per poter superare tutte le sfide. o magari la può anche imparare questa visione. Ma questa visione da che cosa dipende? Come diceva la mia compagna di banco prima dalla capoccia, ha detto. Manuela. Allora, dal mindset. Che cos'è il mindset? Il mindset è una serie di convinzioni che ci guidano nella nostra vita. La cara Carol Dweck, una psicologa statunitense dell'Università di Stanford, ha fatto diversi studi su proprio la forma mentis e ha dimostrato che esistono due diversi mindset. Quello fisso, cioè di una persona che di fronte alle critiche e ai fallimenti basta, si ferma, si blocca. Non vuole più andare avanti, dice basta, non ci riesco. L'altra persona invece che si dice che ha un mindset dinamico è quella persona che di fronte ai fallimenti e alle critiche si rigenera. Riprende tutta la sua determinazione per raggiungere quello che veramente desidera. Ok? Che altro? Che se voi avete un sogno nel cassetto, ieri Filomena ci ha parlato di passione, di sogni, provate a tirarlo fuori, a scriverlo e a pensare qual è il mindset che vi serve per poterlo realizzare? Abbiamo detto che il mindset è una serie di convinzioni. Cosa sono le convinzioni e da che cosa si originano? Sono proprio il risultato di quelle informazioni che noi assorbiamo nella nostra infanzia, dai genitori, parenti, insegnanti, anche dai media e anche dalle nostre esperienze personali. Le convinzioni possono essere limitanti, per esempio, se noi abbiamo un sogno nel cassetto, abbiamo delle convinzioni limitanti, se no il cassetto l'avevamo aperto e l'ultimo avremmo realizzato. convinzioni limitanti possono essere non ho l'età, c'è crisi, non ho tempo, convinzioni potenzianti ci riuscirò sicuramente, ho tutte le risorse, comunque, in entrambi i casi, sono molto potenti. Sono potenti perché ciascuno di noi interpreta la realtà sulla base delle proprie convinzioni e non solo influenzano i nostri pensieri, il nostro linguaggio, le emozioni e anche il nostro atteggiamento. E allora, siete d'accordo con me che se le convinzioni influenzano il nostro atteggiamento è importante allenarci a cambiare le convinzioni limitanti e trasformarle in potenzianti. Siete d'accordo? Bene. Anche perché c'è un meccanismo perverso per cui se io penso che non sono abbastanza bravo e penso di non riuscire, che cosa succede? Che mi aspetto di non riuscire. E se non ci riesco, cosa dico? Te l'avevo detto che non ci riuscivo. e quindi riconfermo l'aspettativa e la convinzione. E questa si radica talmente tanto in profondità che non la scalzate facilmente e non riuscirete mai ad ottenere quello che volete. Allora, come fare per trasformarle? Io uso e ho usato degli strumenti che si chiamano le presupposizioni. Chi ha letto di PNL e programmazione neurolinguistica le conosce. Le presupposizioni sono delle affermazioni potenti che permettono di superare quei limiti mentali che proprio le convinzioni limitanti hanno creato. Io ve ne ho tirate fuori tre ma ce ne sono tantissime. Allora, per esempio dico non ci riuscirò mai bene la dobbiamo trasformare come facciamo? Ho dentro di me tutte le risorse per riuscire nessuno può dire niente ce l'ho se qualcuno può farlo posso farlo anch'io ieri Filomena ha detto proprio così se lo posso fare io lo potete fare pure voi quindi trovate una persona che fa quello che voi vorreste fare se lo fa lei lo posso fare anch'io non esistono fallimenti ci sono solo lezioni questo è molto potente perché al fallimento è collegata l'emozione della paura del giudizio degli altri e trasforma dare una connotazione positiva alla parola fallimento e trasformarla in lezione fa sì che ci porti uno stato d'animo positivo un altro un altro strumento di allenamento che io utilizzo e ho utilizzato è quello dell'albero delle convinzioni allora quando non riuscivo a scrivere il libro procrastinavo che cosa ho fatto ho preso un foglio di carta e ho messo giù vedete alla base non riuscirò mai a scrivere il libro ok e ho cominciato a scrivere tutte le convinzioni limitanti però ho detto ma che cosa c'è che mi blocca ci saranno delle convinzioni sotto che non mi fanno non mi permettono di procedere e allora me ne sono venuta in mente qualcuna allora scrivere un libro richiede tempo la prima cosa no? non abbiamo mai tempo e che cosa ho fatto? ho preso un altro foglio poi e ho messo tutte quelle potenzianti riuscirò a scrivere un libro allora il fatto che non ho tempo ho pensato sì però io quando voglio veramente fare qualcosa la faccio il tempo lo trovo e quindi l'ho messa nell'albero delle potenzianti poi c'era un'altra non ho mai scritto un libro allora ci ho pensato ho detto ma cioè uno scrittore prima di scrivere il primo libro non aveva mai scritto un libro perché certe volte se ci pensate se fate questo esercizio vi accorgerete che ci sono delle convinzioni stupide che ci bloccano e quindi ho continuato per esempio non avevo voti alti in italiano a scuola ora i voti alti in italiano sono un parametro per non scrivere un libro e quindi se voi fate questo semplice esercizio alla fine non solo troverete delle cose veramente stupide che vi bloccano ma vi sentirete anche alleggeriti di un po' di fardelli sentirete molto più leggeri e pronti a partire una cosa molto importante metteteci sotto anche le emozioni che vi legano al raggiungimento della cosa o al non raggiungimento per esempio io avevo scritto riuscirò a scrivere il libro mi dà una sensazione di soddisfazione di felicità di piacere il secondo consiglio è cambiare i pensieri perché chi è che magari certe volte dopo un appuntamento di lavoro torna e dice non mi pagherà mai non mi chiamerà mai non gli piacerà mai il mio progetto a chi succede? a qualcuno a tutti bene allora è importante fermarsi bloccarsi e trasformare questo pensiero e trasformarlo in potenziante mi chiamerà sicuramente la prossima settimana gli piacerà sicuramente il mio progetto mi pagherai in anticipo così perlomeno ci mettiamo in uno stato d'animo positivo questo non si vede molto bene Tim Galloway il padre del coaching dice nella vita come nella competizione sportiva noi dobbiamo affrontare due partite con due avversari la prima partita è l'outer game e cioè con tutti gli incidenti gli imprevisti che ci accadono normalmente nella vita la seconda partita è con noi stessi l'inner game con tutte le nostre paure insicurezze e lui dice se nell'outer game magari non possiamo mettere molta influenza ma nel nostro inner game sul nostro inner game ci possiamo lavorare sicuramente e lui quindi ha coniato questa formula la prestazione la performance è uguale al potenziale meno l'interferenza del nostro dialogo interno e quindi noi più riusciamo a gestire il nostro dialogo interno e più aumenterà il livello della nostra prestazione il terzo consiglio è ripetere 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 la ripetizione genera convinzione chi è che è d'accordo su questo? non siete d'accordo? qualcuno sì qualcuno no la pubblicità? l'acqua che elimina l'acqua? voglio dire e poi nel mio libro ho ho raccontato un aneddoto che riguarda me di quando ho fatto una maratona di 42 km senza allenamento fisico ma solo con allenamento mentale ripetendomi alcune cose se volete potete trovarle nel mio libro quindi vi posso assicurare che la ripetizione genera convinzione perché io sono arrivata fino alla fine il quarto consiglio allora a volte la cosa ci sembra così difficile da raggiungere impossibile che non riusciamo a crederci allora questo signore è un motivatore australiano lui è nato senza braccia e senza gambe e lui avrebbe voluto un miracolo per averle però che cosa ha fatto? ha imparato a fare tutto quello che facciamo noi anche andare in skateboard senza braccia e senza gambe ci ha creduto e allora c'è uno strumento molto semplice una frase che vi potete ripetere anche se non so come quello che so è che ci riuscirò questo perché è così potente questa frase perché la nostra mente molto spesso si blocca davanti al come come ci riesco come ce la faccio invece dicendo questa frase si bypassa la parte razionale del cervello e l'ultimo l'ultimo consiglio è quello di visualizzare ha funzionato col telecomando comunque Einstein diceva l'immaginazione è tutto è l'anteprima delle attrazioni che la vita ci riserva la mente non riesce a distinguere una cosa realmente accaduta da quella che noi gli facciamo immaginare lo sapevate questa cosa? no bene allora se noi la nutriamo con degli esempi di successo immaginando che una cosa è avvenuta lei pensa che è fatta e quindi manda delle emozioni al nostro corpo dei sentimenti di sicurezza e questo è un po' quello che fanno gli sportivi quando devono tirare la palla quando si concentrano immaginano che tirano la palla e va a segno e quindi qual è un altro strumento che potete utilizzare quello di immaginare che il vostro sogno del cassetto l'avete realizzato lo dovete immaginare con tanti dettagli più dettagli possibili vi dovete immaginare dentro questa visione e dovete anche immaginare l'emozione che provereste se questo sogno è realizzato secondo voi è facile fare questa cosa? non vedo risposte no non lo farà nessuno allora facciamo così io vi faccio vedere adesso che in due minuti questa cosa si può fare allora chi ci riesce bene se no vi allenate a casa da soli chi vuole fare questa cosa in due minuti bene allora togliere le mani da pc acqua cellulari da tutto scavallare le gambe mettere il palmo della mano tutti e due rivolti verso l'alto poggiati sulle cosce bene ottimo adesso faremo insieme due respiri molto profondi e lunghi ma ve lo dico io quando lo dico io fermi tutti alla fine dei due respiri se volete potete chiudere gli occhi ok partiamo siete pronti? siete pronti? sì vai allora primo respiro secondo respiro chi vuole può chiudere gli occhi ed ora immaginate di essere a casa e di andare verso quel cassetto sì quel cassetto dove c'è il vostro sogno lo avete lasciato lì da tempo e adesso avete la possibilità di tirarlo fuori al mio tre al mio tre uno due tre ecco il sogno che improvvisamente si ricrea davanti a voi e voi siete là dentro guardate un po' giratevi intorno prendete più dettagli possibili i colori gli odori tutte le immagini che riuscite a raccogliere le persone che sono intorno a voi le vostre emozioni che cosa state provando quali sentimenti vi suscita questa cosa e che cosa vi state dicendo e ora rimanete in questa visione sempre ad occhi chiusi e girate le pupille verso l'alto le ripetete con me dentro di voi anche se non so come realizzare questo sogno ciò che so è che è già così così è così è così è grazie 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 adesso con un respiro ritorniamo nel qui e ora potete aprire gli occhi avete appena inviato la vostra intenzione all'universo vi è piaciuto chi è che ci ha riuscito chi è che ci ha riuscito qualcuno ci ha riuscito però è un allenamento più lo fate e più si realizza io ieri l'ho mandato con fatto la visualizzazione del telecomando l'unica persona che siate destinati a diventare è la persona che decidete di essere è il grande Ralf Valdo Emerson e allora se volete rimanere in contatto con me troverete quello che vi ho detto e moltissime altre cose in più nel mio libro che ho qui o potete acquistare su Amazon e potete seguirmi sulla mia pagina Facebook Mental Coach Stefania il mio profilo Stefania Ippoliti su LinkedIn anche ci sono come Stefania Ippoliti e a questo punto non mi resta che augurarvi buona vita grazie Stefania